Bundesliga, il Bayer Leverkusen batte il poker del Friburgo allo Schalke. Leverkusen, Germania, nella 29esima giornata la prossima rivale della Roma in semifinale di Europa League vince-vince dopo una prova convincente contro l'Ipsia. Il Bayer Leverkusen si impone per 2-0 grazie ai gol di Lozzec e Amiri. Nello scontro diretto per il quinto posto che vale la qualificazione alla prossima Europa League. I padroni di casa si portano avanti alla fine del primo tempo grazie al gol del Ceco Lozzec che capitalizza al meglio un assist dell'ex attaccante del Crotone Diaby. Il raddoppio arriva a tre minuti dal termine, grazie a un calcio di rigore realizzato da Amiri. Grazie a questo successo, i rossoneri riducono le distanze dall'Ipsia che ora è soltanto a quattro lunghezze. Bayer Leverkusen l'Ipsia 2-0, statistiche e tabellino poker Friburgo, 4 gol allo Schalke che vola intanto il Friburgo. Che con l'azzurro grifo titolare cala il poker in casa contro lo Schalke 0-4, travolto con un perentorio 4-0. Il secondo successo di fila in campionato è arrivato con due gol per tempo, ad aprire le marcature e Gregorizk. Autore della doppietta, 7-35, che spiama la strada alla squadra di Streich. Capace poi di dilagare nella ripresa con Oler, 52, e Ginter, 82 e Friburgo scalke 4-0, statistiche e tabellino Union Berlino ok a Mönchengladbach preziosa vittoria esterna per l'Union Berlino. Che grazie al gol segnato da Becker al 15 della ripresa, si impone sul campo del Borussia Mönchengladbach per 1-0. Grazie a questo successo gli uomini di Fischer tornano al terzo posto con 55 punti. Scavalcando il Friburgo Borussia Mönchengladbach con un Berlino 0-1, statistiche e tabellino.